Dal 67 a oggi le cose che sono successe sono forse più note, sono più davanti agli occhi di tutti, ma io voglio sottolineare che solamente chi conosce tutta la parte che abbiamo illustrato fino adesso capisce come gli eventi successivi, dalla nascita dell'OLP, gli attentati terroristici dei gruppi palestinesi, la nascita di Hamas che peraltro viene aiutato nella creazione e finanziato da Israele in funzione anti-Arafat, perché quello che Israele e gli americani temevano di più era il laicismo e il socialismo della componente palestinese di allora, ma comunque quello che è accaduto oggi si è più davanti agli occhi, ma in ogni caso va sottolineato che se non si conosce la parte che abbiamo appena illustrato, non si capisce poi perché nasce un OLP, perché nasce un Arafat, perché vengono fatti attentati, perché ci sono dei palestinesi violenti e perché si arriva agli attentati di suicidi, perché si arriva a Hamas. Se non si racconta tutto questo, sembra veramente che ci sia stato un popolo arabo barbero che a un certo punto è impazzito e si è messo a fare strage di occidentali e di israeliani a piacimento. Se si racconta tutta la parte precedente si capisce che la violenza palestinese, per quanto esecrabile, per quanto certamente terrorista, è un terrorismo, e cito Edward Herman, è un terrorismo alla spicciolata che reagisce a 60, ormai sono diventati più di 100 anni di violenze, di ingiustizie, di orrori neonazisti, come dicono alcuni dei stessi leader ebraici, di orrori neonazisti contro i palestinesi. Una reazione non è un'azione. È fondamentale capire questo passaggio, che i nostri esperti televisivi non citano ovviamente mai. Reagire non è agire violenza, è ben altra cosa, ma si guardano dal dirlo, perché se dicessero che Hamas, per quanto terrorista e violento, reagisce, dovrebbero raccontare al pubblico, ma reagisce a che? E allora dovrebbero raccontare al pubblico tutto quello che vi ho raccontato stasera, ma quello non lo vogliono raccontare. Assolutamente no. E neppure la parte più moderna, come quando Abe Eben, ambasciatore israeliano all'ONU, fu talmente schifato dalle politiche israeliane e territori occupati, che disse a Menachem Begin noi riversiamo ogni tipo di orrore e devastazione morta sui palestinesi con metodi che mi ricordano un regime che né io né lei, primo ministro, oseremmo chiamare per nome. E si riferiva ai nazisti. Cioè dovrebbero raccontare queste cose e chiaramente non le vogliono raccontare. Dopo è successo tutto quello che sapete. Dopo sono successi gli orrori che conosciamo moderni in Palestina, l'uso degli scudi umani, l'istruzione dei villaggi, le ingiustizie, le torture, i rapimenti, le cose più... tutto quello che sappiamo dalle croniche, ma quella cronica moderna la conosciamo bene o male. Vediamo le immagini, vediamo i morti. Capite? È tutta altra cosa capire cosa è successo prima. È tutta altra cosa capire infine che se vogliamo porre fine alla tragedia israelo-palestinese, ma anche per il bene del popolo ebraico che viene regolarmente ingannato da questi assassini neonazisti che sono i leader politici sionisti, se vogliamo la pace in quelle terre va raccontata la verità. È solo attraverso questa verità che si può arrivare alla pace. Bisogna che Israele chieda scusa per quello che ha fatto. Certamente oggi non si può eliminare lo Stato di Israele, ma questo non ci pensa nessuno, non ci pensano neppure gli arbi. Anche quella è un'altra menzogna. Non è vero che vogliono buttare Israele a mare. Ismail Agnè, che è il primo ministro di Hamas, è eletto nei territori a Gaza, adesso sta, è il primo ministro dei palestinesi, comunque perché è stato eletto il primo ministro dei palestinesi di Hamas, ha scritto sul Washington Post nel luglio del 2006, noi siamo a favore di una terra in pace per tutti i popoli semiti del Medio Oriente. I popoli semiti del Medio Oriente significa i palestinesi e gli ebrei. Lo ha dichiarato sul Washington Post, non l'ha riferito nessuno, non l'ha ripreso nessuno. Erano i giorni in cui Israele avrebbe poi attaccato il Libano, uccidendo mille persone innocenti. Ora, bisogna raccontare la verità. Israele deve chiedere scusa e ritornare alla ragione. Questo è per il bene anche del suo popolo e deve permettere ai palestinesi di avere uno Stato. Ma senza questa narrativa precedente non si può mobilitare l'opinione pubblica, la gente vi dirà sempre ma come? Volete addirittura dare uno Stato a dei terroristi? Gli arabi, cattivi, fanatici, Al-Qaeda? Che con Hamas non c'entra assolutamente niente. Credo che ce ne sia abbastanza per fermarci qua. L'invito che faccio e con cui voglio concludere questa presentazione è che chiunque abbia a cuore la causa palestinese deve mettersi in mente che se all'opinione pubblica non raccontiamo la storia che vi ho raccontato questa sera, non c'è speranza di cambiare il destino dei palestinesi. È inutile fare le manifestazioni in piazza, non serve a niente. È inutile protestare, è inutile andare in televisione e far vedere i bambini morti. Non serve a niente perché il ritornello è sempre quello. Sì ma, va bene, è terribile, sono morti i bambini, ma è Hamas che provoca, è Hamas che è terrorista, eccetera. Capite? Fino a che ci sarà questa cosa non riusciremo mai a aiutare i palestinesi. Quindi chiunque abbia a cuore la causa palestinese, la giustizia in Medio Oriente e anche la giustizia per il popolo di Israele, deve andare in giro e divulgare queste cose.